dinner party mi ricordo sempre una celebrazione sempre qualcosa di piccolo qualcosa di un'occasione importante grande e infatti portano sempre assieme molte persone e quindi ho pensato che questa potesse essere un'occasione per celebrare anche le mie nuoculture attraverso quello che faccio la mia domanda è come nasce Swimming with Wings? Being in a new surrounding with the heaviness of the challenges that pulls them down and that was the story of how the idea came out Ma question n'est pas a propos del corto-mettro, ma vous avete dei progetti a l'aventura di immigrati? Io lavoravo su un progetto di film che racconta una storia familiare per tre generazioni tra la Francia e l'Algérie Grazie a tutti